Buongiorno a tutti, sono Massimo Toniato, questo è un video approfondimento di A Tutto Schermo volume 2, Audino Editore. In questo video desidero illustrare esplicitamente passo dopo passo qual è il flusso di lavoro per il montaggio multicamera in Adobe Premiere, così come anche già spiegato tra le pagine del libro nel capitolo appunto dal titolo montaggio multicamera. Per procedere ho dovuto selezionare dall'archivio un opportuno girato in multicamera e per rispetto della privacy delle persone con cui lavoro o per cui lavoro ho deciso di utilizzare un'intervista fatta a me stesso, così è sempre purtroppo la mia faccia quella che vedrete. Diamo un'occhiata, allora sono all'interno di un file di Premiere completamente vuoto che ho intitolato per l'appunto intervista multicamera. Nella cartella di progetto trovo già tre clip corrispondenti a tre camere con cui è stato fatto, è stata realizzata questa intervista e in aggiunta la registrazione del microfono separata. Importo questi quattro file all'interno della mia intervista multicamera e noto che tutti quanti sono già a una frequenza fotogrammi uniforme, quindi 25 fotogrammi al secondo e vado a memoria ma sono piuttosto sicuro che tutte e tre le clip siano in full hd, infatti ecco qua 1920x1080. Per questa ragione posso anche trascinare direttamente le tre clip in una nuova timeline o in alternativa posso ovviamente creare una nuova sequenza, una nuova timeline da un opportuno preset. Le come dicevo porto all'interno della mia timeline tutte quante le risorse grezze relative alla mia intervista, quindi camera 1, camera 2 con un bilanciamento del bianco considerevolmente diverso e camera 3. Quindi abbiamo una mezza figura, oddio che facce da meme ragazzi, usciranno i meme. Camera 1 è un mezzo busto, camera 2 è un primo piano, camera 3 è un primissimo piano. A questo aggiungiamo per l'appunto la traccia isolata del microfono, quindi è stata fatta una registrazione double system in questo specifico lavoro. Ora devo procedere alla sincronizzazione delle tre clip video e della clip audio sfruttando la sincronizzazione automatica di Premiere che a sua volta sfrutta per l'appunto l'analisi della forma d'onda dell'audio ambientale della camera. Per cui camera 1 occupa la traccia video 1, camera 2 faccio in modo che occupi la traccia video 2, camera 3 faccio in modo che occupi la traccia video 3 e naturalmente la traccia audio occuperà la traccia audio numero 4. Se noi andiamo a zoomare vediamo che può sembrare che le tracce siano già sincronizzate ma nella realtà non è così. Infatti zoomando opportunamente la visualizzazione di queste tracce notiamo il picco della forma d'onda che è questo qui. Questo è il picco della forma d'onda del Chuck. Allora come dicevo procedo alla sincronizzazione delle risorse. Per farlo le seleziono tutte quante, clicco con il tasto destro e faccio sincronizza. Dalla funzione sincronizza devo selezionare la modalità audio. Faccio ok, le tracce audio vengono analizzate e per l'appunto vengono sincronizzate. Se torno a vedere il picco di forma d'onda del Chuck noto che adesso è effettivamente sincronizzato. Potremmo avere la sensazione che la traccia 1 sia fuori sync rispetto alle altre in quanto la forma d'onda non è, non sembra perfettamente allineata rispetto alle altre. Il motivo è presto detto, in una timeline da 25 fotogrammi al secondo lo scarto minimo di spostamento è evidentemente un venticinquesimo di secondo. Ragione per cui un venticinquesimo di secondo più avanti ed ecco che il picco d'onda mi sembra in ritardo, un venticinquesimo indietro ed ecco che il picco d'onda mi sembra in anticipo. Allora la realtà dei fatti è che in un montaggio multicamera come questo, dove c'è soltanto il parlato di un intervistato, difficilmente si noterà la differenza nel montato finale. Tuttavia se io voglio essere particolarmente puntiglioso e preciso, ecco che io posso cliccare con il tasto destro sull'indicazione del timecode nella parte superiore della timeline e seleziono mostra unità di tempo audio. Ecco quindi che il tempo cessa di essere espresso come un timecode ma diventa una codifica tempo effettiva standard, espressa in secondi e millisecondi invece che in secondi e in fotogrammi. Di nuovo però io non riesco ad allineare perfettamente l'audio perché comunque il video è vincolato allo scarto minimo di un venticinquesimo di secondo. Quindi per allineare perfettamente l'audio nelle rare occasioni in cui la differenza di un venticinquesimo di secondo può possa essere importante, separo tramite il comando scollega audio e video e sono in grado di gestire indipendentemente l'audio per andare effettivamente ad allinearlo. Faccio qualche comand Z perché ribadisco che solitamente lo scarto di un venticinquesimo di secondo nell'audio non è percepibile nel montato finale. Bene, a questo punto la mia proposta è quella di pareggiare tutte quante le clip video e le clip audio. Sostanzialmente ritagliamo le abbondanze. Ecco che vado a tagliare tutte quante le clip nello stesso punto con la taglierina o se voglio essere più rapido posso tenere premuto il tasto shift e in corrispondenza del click tutte quante le tracce verranno tagliate nello stesso punto così posso agevolmente cancellare le abbondanze. Cancello questo surplus di spazio vuoto ed ecco che ho tutte quante le tracce pareggiate da questa parte. Faccio altrettanto alla fine della sincronizzazione con il tasto taglierina, tasto C e tenendo premuto il tasto shift sono in grado di tagliare tutte quante le tracce nello stesso momento. Ecco fatto. A questo punto io ho la sincronizzazione effettivamente effettuata. Sono pronto a montare in multicamera. Adesso ci sono due scuole di pensiero. Dipende molto dal tipo di lavoro che dovete fare. L'audio ambientale può essere cancellato ed è solitamente quello che faccio io ma mi rendo conto che effettivamente mantenere l'audio ambientale può essere un asset molto utile in caso io abbia degli errori non previsti nella registrazione audio esterna. Per cui in questa situazione magari l'audio lo separiamo dal video di nuovo con il tasto scollega e semplicemente lo ammutoliamo. Possiamo utilizzare indifferentemente la traccia muto. In alternativa posso selezionare le clip, fare clic con il tasto destro e togliere la spunta di abilita. Le due cose sono equivalenti. Io posso tenere le tracce mute oppure posso togliere la spunta di abilita dalle tracce audio ambientali. Ecco a questo punto posso selezionare tutte quante le tracce a mia disposizione, clicco con il tasto destro e creo una sequenza nidificata. La sequenza nidificata come vediamo coinvolge soltanto le tracce video e non le tracce audio che rimangono invece inalterate nella timeline. A questo punto per proseguire nel montaggio multicamera clicco con il tasto destro sulla sequenza nidificata e vado sul selettore multi videocamera e seleziono abilita. Ancora non vedo alcuna differenza fin tanto che non vado sul pannello programma e dalle impostazioni quindi da questa iconcina a forma di chiave inglese vado a selezionare il monitor multi videocamera. Ecco adesso la differenza è molto ben visibile. Che cosa abbiamo ottenuto? Nella parte sinistra dello schermo io vedo ciascuna videocamera nel momento della riproduzione quindi abbiamo detto il mezzo busto, il primo piano e il primissimo piano mentre in grande posso vedere la camera che è in onda in quello specifico momento. A questo punto sono pronto per fare il montaggio multicamera per cui allora mi sposto all'inizio del mio montaggio multicamera, premo il tasto play ed ecco che vediamo che premendo il tasto 1 sulla tastiera la camera relativa, la 1, si borda di rosso. Ciò significa che in questo momento quella camera è in onda. Se premo il tasto 2 va in onda la camera 2, se premo il tasto 3 va in onda la camera 3 sempre su una faccia da meme e quindi il montaggio è presto fatto, è proprio questo il montaggio dal vivo nel senso che su successive pressioni del tasto 1, tasto 2, tasto 3 ecco che sono in grado di montare in tempo reale. Qualcuno potrebbe dire sì ma io qui non sto vedendo effettivamente i vari tagli che sto eseguendo. Per vederli nell'effettivo è sufficiente fare pausa. Quando io fermo la riproduzione ecco che vedo fattualmente effettivamente tutti quanti i tagli che io ho realizzato nella mia intervista. A questo punto potrei avere la necessità di modificare il montato finora realizzato. Ho due possibilità a questo riguardo o con i cursori a forma di parentesi quadra posso allungare e accorciare le varie clip per fare in modo che gli stacchi di camera cadano in un momento diverso da quello inizialmente determinato come se fosse una clip video qualsiasi o in alternativa posso tornare indietro, fare play nuovamente e in questo modo sovrascrivere il montato precedente con quello che sto realizzando in questo momento. Quando faccio pausa ecco che vedo il nuovo montato che ha sovrascritto quello precedente. Se la mia necessità invece è quella di cambiare soltanto l'inquadratura di una frazione di montaggio quindi di uno stacco già delineato e determinato sulla timeline è sufficiente selezionare quella specifica clip. Noto che la clip in onda in quel momento è la numero 1, è l'inquadratura numero 1, se voglio modificarla mi è sufficiente cambiare inquadratura con i tasti già visti prima quindi posso semplicemente premere il tasto corrispondente alla clip, all'inquadratura che voglio che sia visibile in questo spazio e la modifica è sostanzialmente già fatta. Se voglio posso anche montare facendo play e invece di utilizzare i pulsanti posso andare a premere sopra alle varie inquadrature direttamente nel monitor programma. Le due modalità si equivalgono evidentemente ci sono però i contro finché ho 3-4 inquadrature mi è più semplice pensare di montare con la pulsantiera della tastiera. Se inizia ad avere 10 o 20 camere ammesso e non concesso che la vostra la vostra macchina e il computer su cui state lavorando possa sostenere un simile carico di lavoro ma se ci riuscite è evidente che avreste troppi monitor e troppi pochi pulsanti azione sulla vostra tastiera e a quel punto probabilmente un montaggio fatto direttamente con i click sul monitor programma è da preferirsi. Una volta che io ho terminato il mio montaggio multicamera posso tornare sulle impostazioni del monitor programma e tornare a video composito. In questo modo qua torno alla visualizzazione del mio video tradizionale. Naturalmente sto completamente bypassando tutte quante le questioni diciamo formali e di linguaggio su quando è opportuno fare stacchi di camera durante un'intervista però questo esula un pochino dalle finalità di questo video. Invece una finalità che è molto importante per i nostri scopi è quella di evidenziare come il bilanciamento del bianco delle varie camere sia completamente sbagliato sia completamente difforme tra la camera 1 la camera 2 e la camera 3. In realtà la camera 2 e la camera 3 sono già sufficientemente omogenee mentre la camera 1 che è palesemente molto diversa. Allora vediamo come uniformare i colori. Ricordiamoci naturalmente che questa è una sequenza nidificata a tutti gli effetti ragione per cui io posso andare a recuperarne l'interno non facendo doppio clic sulla clip direttamente in timeline ma bensì facendo doppio clic sulla sequenza nidificata dal pannello progetto. Eccola qua. Quando io torno all'interno della mia sequenza nidificata trovo le stesse piste video che ho sincronizzato all'inizio del mio lavoro traccia 1, traccia 2, traccia 3. Ecco che eventualmente quando io applico un qualsiasi effetto tra cui anche un effetto magari di bilanciamento o di un'informazione colore su una di queste tracce l'effetto si ripercuote immediatamente sul montaggio che io ho già realizzato. Vediamo al lato pratico. Facciamo un esempio assolutamente irrealistico ma giusto per capire di cosa stiamo parlando se io applico l'effetto bianco e nero ad esempio sulla camera numero 3 ogni qualvolta nel montaggio che io ho già fatto compare la camera numero 3 la camera 3 sarà visualizzata per l'appunto in bianco e nero. Attenzione a non far confusione questo effetto bianco e nero non è applicato a questa clip che è una porzione della sequenza nidificata ma è applicato alla clip che si trova all'interno della sequenza nidificata stessa. Sappiamo che la sequenza nidificata è una sorta di scatola logica al cui interno posso mettere varie clip per i più svariati utilizzi. Ecco l'effetto bianco e nero è applicato in una clip all'interno della scatola e non al di fuori della scatola. È molto importante per avere un buon flusso di lavoro e uno stile progettuale adeguato ricordarsi sempre e avere ordine mentale su dove sto effettivamente applicando i miei effetti. Quindi detto questo vado di nuovo nella sequenza nidificata e evidentemente rimuovo il bianco e nero che non mi interessa e invece vado nella camera 1 dove ho bisogno di uniformare questo bianco. Vado a richiamare il mio amico Lumetri, colore Lumetri, lo trascino sulla clip incriminata e da controllo effetti posso andare a bilanciare il bianco sul fondale. Posso fare la stessa operazione anche sulle altre clip con l'opportuno contagocce e in questo modo il gioco è fatto. Rimetto a posto le varie piste video e nel momento in cui io torno al mio montato dovrei avere ecco un bilanciamento molto più adeguato. In realtà vedo che il bilanciamento è anche abbastanza uniforme adesso ma abbiamo comunque uno skin tone particolarmente diverso come vedete qui. A parte sembrare un delinquente in queste riprese ma qui ho un colore della pelle molto più saturo in qualche modo molto più giallognolo mentre in questa inquadratura io ho un colore della pelle meno saturo, un po' più desaturato e soprattutto più tendente a rosa. Mi piacerebbe uniformare anche questo aspetto. Ecco come posso fare. Torno su sequenza nidificata, seleziono tutte quante le clip e a questo punto vado a togliere l'effetto colore lumetri che ho messo poc'anzi. Per togliere l'effetto a tutte e tre le clip contemporaneamente clicco, le seleziono tutte, vado su rimuovi attributi raggiungibile cliccando con il tasto destro ed ecco che posso selezionare tutti gli attributi che voglio cancellare tra cui anche colore lumetri e ritorno alle mie clip di partenza. Allora, vediamo il da farsi. Io ho la necessità di uniformare questa clip quindi la camera numero 1 con questa clip quindi la camera numero 2. Desidero quindi modificare i colori di camera 1 e per questo motivo trascino colore lumetri soltanto su camera 1. Dal controllo effetti vado non più sulla correzione di base ma su corrispondenza e ruote colori. Apro vista confronto e in questo modo qua la mia immagine si sdoppia. A sinistra ho la possibilità di navigare fino a trovare un riferimento ossia un'immagine a cui rubare i colori. Eccola qui. Mentre nella parte destra dello schermo ho la possibilità di visualizzare l'immagine corrente che gestisco tramite la solita barra di scorrimento della timeline. Una volta che ho settato correttamente il monitor di riferimento quindi l'immagine da cui voglio che vengano presi i colori e l'immagine corrente ossia l'immagine a cui voglio che siano applicati i colori mi è sufficiente premere su applica corrispondenza. Ecco vediamo che non è un sistema infallibile ma comunque ha uniformato in particolar modo lo skin tone. Tenendo il flag attivo sul rilevamento volti lo skin tone sarà l'elemento di uniformazione privilegiato nella modifica dei colori tra una clip e l'altra. Esattamente come per la clip multicamera posso a questo punto tornare su videocomposito. Posso rimettere a posto le mie clip grezze quelle originali già sincronizzate e posso tornare su sequenza per andare a vedere il montato fatto e finito. Lo stesso montato che avevo già fatto precedentemente in multicamera. Chiudo questo video dando due consigli ulteriori che è bene sempre tenere a mente nello strutturare il proprio montaggio video. Il primo è non abusate del montaggio multicamera. Il montaggio multicamera non va bene per qualsiasi situazione ma va bene soltanto per situazioni in cui effettivamente la stessa azione, la stessa ripresa viene ripresa da più device contemporaneamente. Quindi un montaggio tradizionale cut and merge come può essere quello per uno spot, un cortometraggio, un videoclip non hanno necessariamente bisogno del multicamera. Anzi spesso forzare il flusso di lavoro per coinvolgere il multicamera ha degli effetti collaterali davvero molto vistosi, ci fa perdere un sacco di tempo e ci fa sostanzialmente a investire più tempo nell'andare a rimuovere tutte le sbavature che via via compaiono nel multicamera invece di concentrarci sul sul risultato complessivo. Quindi fate in modo che il montaggio multicamera vi sia utile soltanto appunto in situazioni come quella di un'intervista o magari la ripresa di uno spettacolo dal vivo o di una conferenza dal vivo, in tutte quelle situazioni in cui c'è molto girato da montare e tutta l'azione viene ripresa per un tempo molto lungo da device differenti. Il secondo consiglio che è più una valutazione generale è la seguente, ricordiamoci che abbiamo visto adesso l'effetto colore lumetri sia per una gestione diciamo della color correction delle varie riprese sia per un color matching quindi per fare in modo che due riprese fatte con due device differenti abbiano la stessa pasta dell'immagine. Ricordiamoci sempre che Premiere non è assolutamente il software più indicato per fare color correction, color matching e color grading. Su questo ci sono dei software che naturalmente sono molto molto più evoluti uno su tutti DaVinci Resolve. Nel libro cerco di spiegare in maniera più dettagliata in che cosa è più funzionale Premiere e in che cosa è più funzionale DaVinci Resolve ma dico questo a beneficio sia di chi tra voi voglia percorrere in futuro la strada professionale del colorist e sia magari ad amici e colleghi che già colorist lo sono. Non sto assolutamente dicendo che colore lumetri è uno strumento valido o avanzato per la gestione di colore tra le varie clip ma è il più potente che sicuramente si può trovare all'interno di Premiere e entro certi limiti può dare sicuramente molte soddisfazioni. Spero che questo video sia stato chiaro. Per qualsiasi informazione ulteriore non esitate a digitare nei commenti di questo video. Io vi auguro buon lavoro. Grazie a tutti.